La natura comincia a premiare gli sforzi dell'uomo. Dopo decenni di emergenza, il buco dell'ozono si sta lentamente restringendo. Secondo gli scienziati riuniti a New York, dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale del Programma dell'ONU per l'Ambiente, la ricomposizione dello strato di ozono che protegge la Terra dalle radiazioni ultraviolette del Sole potrebbe completarsi entro il 2050. Un effetto benefico grazie al protocollo di Montreal siglato nell'87 che ha stroncato l'uso dei gas nocivi. Il protocollo sta anche evitando ogni anno circa 2 milioni di casi di cancro alla pelle, una cifra che sale a 100 milioni se si calcola fino alla fine di questo secolo. Il successo del protocollo di Montreal dovrebbe incoraggiare ulteriori azioni non solo sulla protezione dell'ozono, hanno sottolineato gli scienziati, ma anche sul clima. La stessa urgenza usata fino ad ora dovrebbe essere investita per affrontare l'enorme sfida del riscaldamento climatico.